L'antiterrorismo ha arrestato un uomo a Bari con sospetti legami con i suprematisti bianchi dell'attacco a Capiton Hill. Avrebbe minacciato anche la senatrice Liliana Segre. Silvia Squizzato. Armi con iscrizioni in runico, l'alfabeto usato dalle antiche popolazioni germaniche. Adolf Hitler, svastiche, i nomi di killer autori di stragi in Italia e Nuova Zelanda e Norvegia. Materiale sequestrato a casa del 23enne barese Luigi Antonio Pennelli, ha arrestato questa mattina all'alba con l'accusa di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Secondo gli inquirenti, il giovane era pronto a sacrificarsi per la razza bianca e a colpire in Italia. Vicino ai suprematisti di Capiton Hill, la sua intenzione sarebbe stata di costituire nel nostro paese una cellula dell'associazione terroristica americana The Base. Aveva creato un proprio profilo informatico come comandante della base, il primo caso in Italia, dove indurre i potenziali adepti a contattarlo. Nel suo pc anche molti messaggi antisemiti. In una chat Telegram avrebbe condiviso un video con minacce di morte alla senatrice Liliana Segre. Grazie. 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 Grazie.